Più che altro ero commosso, diciamo, molto commosso dalla storia di questa famiglia, dalle sofferenze che raccontate con grandissima credibilità, sia chiaramente dal componente della famiglia in causa, sia dall'altro professore. Commozione, interesse, riflessione, questo ha suscitato negli studenti del Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo la conferenza ospitata dalla Sala del Consiglio Comunale, in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano e l'Istituto Storico Arettino della Resistenza e dell'Età Contemporanea per celebrare la Giornata della Memoria. Stamani è stata una giornata dedicata proprio nell'andare a ripercorrere quelli che sono stati magari gli accadimenti, nell'andare anche ad illustrare quello che è stato il volume del professore Daniele Finzi, uno scambio di lettere tra i due genitori che nel momento in cui hanno visto in maniera lungimirante che si sarebbero posti tanti accadimenti in Italia, portando naturalmente ai lager, sono scappati, sono scappati nella loteria d'origine, però si sono dovuti allontanare tra l'ex, cioè il futuro che sarebbe venuto in seguito, Stato di Israele e la Palestina, vi è stato uno scambio di lettere nel quale in maniera indiretta si raccontavano quello che leggevano nei giornali, nelle riviste, nei libri. Durante la mattinata c'è stato l'intervento dello stesso Daniele Finzi che ha vinto il premio Pieve nel 2011 grazie alla raccolta di testimonianze dei genitori Ettore Finzi ed Adelina Fuà, diventata poi il volume Parole Trasparenti, e di Camillo Brezzi, presidente della fondazione. Ma un po' di storia contemporanea a questi ragazzi, gliela vogliamo insegnare, cioè secondo lei nei programmi scolastici, perché non si può solo ed esclusivamente demandare a una giornata questo tipo di memoria? Nel governo Prodi, parlo dell'altro secolo, il ministro Luigi Billinguer ha introdotto l'insegnamento della storia del Novecento all'ultimo anno dei licei suscitando un po' di polemiche, ma questo in Italia succede anche se uno dice oggi c'è il sole. Allora il problema è che in questo caso ci sono le leggi, bisogna saperle applicare, e applicarle vuol dire mettere in moto per esempio per gli insegnanti, non è detto che a loro volta gli insegnanti a suo tempo abbiano studiato il Novecento, se non avessero solo quei pochi fortunati che vivevano ad Arezzo e potevano andare a sentire la lezione del professor Brezzi. Racconti purtroppo quanto mai attuali, le parole razzismo, prigionia, guerra, sofferenza riempiono le cronache nei nostri giorni con gli inarrestabili flussi migratori che rischiano addirittura di mettere a repentaglio Schengen. E negli occhi dei più giovani c'è molta più consapevolezza di quanto non si possa pensare. Quanto ti sembrano attuali queste storie? Molto, sì, perché si tende, personalmente credo che si tenda un po' a mettere da parte, si continua a tendere, lui ha detto che è una cosa passata, che si abbia accantonato questa parte di storia, però io credo che ci sia ancora questa tendenza, che soprattutto sia utile riportarla ogni tanto allo scoperto. C'è un ridicolo di razzismo oggi, secondo te? Penso ci sia sempre, non lo so se ci sarà sempre, però io credo che sia davvero utile aiutare, spiegare quello che è stato in modo che non accada di nuovo.